Nel pomeriggio è stato sgomberato l'accampamento Roma in via Selvanesco, nella zona di via demissaglia. L'area era utilizzata anche come discarica abusiva e le condizioni igienico-sanitarie hanno imposto l'intervento del comune. Presidi della CGL oggi a Quartogiaro, il sindacato chiede l'apertura di un tavolo per la sicurezza dopo i fatti cruenti delle scorse settimane. Ieri sera il sindaco Pisapia ha partecipato a un incontro con i cittadini del quartiere. Durante un'udienza del processo a carico di Massimo Guarischi, un investigatore ha fornito nuovi dettagli relativi alle vacanze dell'ex presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni. Almeno 11 viaggi insieme, noleggio di jet, elicotteri privati. In Lombardia sono 49 i morti sul lavoro dall'inizio del 2013. I dati sono dell'INAIL, dati che certificano che negli ultimi 4 anni gli infortuni sono calati del 13%, ma l'allarme resta e l'allarme è rosso. Buonasera, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TGN. L'avete visto, era il primo dei nostri titoli. Questo pomeriggio uno sgombero di un accampamento rom abusivo in via Selvanesco, zona via De Missaglia, in pieno parco sud a Milano. L'area era di 10.000 metri quadri, veniva utilizzata anche come discarica abusiva. I rom presenti erano 48, tanti i bambini. Per noi è andato Massimo Scarinzi. Le ruspe hanno sgomberato questo pomeriggio il campo rom di via Selvanesco nella periferia sud di Milano tra via De Missaglia e di Eripa Monti, un accampamento che sorgeva all'interno del parco sud in mezzo ai campi incolti di una zona d'uso agricolo. 47 le persone allontanate dall'insediamento abusivo, in gran parte minori provenienti dalla Bosnia. Molti nomadi sono fuggiti la scorsa notte dopo aver saputo dell'arrivo imminente delle forze dell'ordine. La zona era utilizzata anche come discarica abusiva. Da anni i residenti del popoloso quartiere delle terrazze a Tigua all'accampamento si lamentavano non solo per i furti ricorrenti ma anche per i miasmi sprigionati dalle fiamme e dai fumi nocivi che ogni notte avvolgevano l'area per i roghi appiccati all'interno del campo. Una discarica abusiva da 10.000 metri quadri che comportava un grave pericolo ambientale a causa di rifiuti abbandonati e presenza di Eternit. Una discarica utilizzata anche da attività del terziario che potevano in questo modo risparmiare sullo smaltimento. Questa era un'occupazione abusiva che durava da qualche... da 20 anni nel parco sud e che è una di quelle dove c'era gestione di rifiuti, fuochi e che creava appunto inquinamento e aveva condizioni igienico-sanitarie molto brutte per i bambini che vivevano in quest'area. Per le famiglie Romo ora si apre la possibilità di un percorso di integrazione grazie alle strutture del Comune di Milano, predisposti alloggi insieme a percorsi di istruzione per i più piccoli e scuole professionali per gli adulti, anche se sono pochissimi nomadi che hanno aderito a questi progetti. Noi abbiamo offerto l'accoglienza presso i centri per emergenza sociale che abbiamo realizzato col piano Romo e quindi un'offerta anche per i ragazzi, per i minori, per le famiglie insieme affinché chi vuole collaborare possa effettuare un percorso di integrazione nella nostra città. La CGL chiede l'apertura di un tavolo tra istituzioni e associazioni per Quartogiaro. Questa mattina si è tenuto un presidio del Sunia e dello SPI. Intanto ieri sera il sindaco Pisapia ha incontrato la cittadinanza dopo gli omicidi della scorsa settimana. Sentiamo. Continua a Quartogiaro la mobilitazione dopo gli omicidi che hanno sconvolto la zona. Ieri sera il sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha incontrato le associazioni del quartiere a Villa Scheibler insieme agli assessori del PD, Rosa e Granelli. Metteremo il massimo di attenzione e più presenza da parte delle istituzioni. Questa è la promessa del primo cittadino. Questa mattina invece si è tenuto un presidio da parte del Sunia e dello SPI, due sindacati inquilini e pensionati di CGL che chiedono l'apertura di un tavolo di confronto su Quartogiaro tra istituzioni e realtà dell'associazionismo. Un segnale preciso, questo non è un quartiere di criminalità, non è il Bronx di Milano, questo è un quartiere che è pieno di problemi, problemi che riguardano i lavoratori, i pensionati e noi siamo qui come Camera del Lavoro con i nostri sindacati degli inquilini e i nostri lavoratori e i pensionati per elencare quelli che sono questi problemi. La proposta è un tavolo in immediato con Regione, con il Comune, con l'Aler, con il Consiglio di zona, con le rappresentanze sindacali e sociali per lavorare insieme ad un grande progetto che garantisca il diritto alla qualità dell'abitare. Intanto la vita nel quartiere ritorna lentamente alla normalità dopo la sovraesposizione e la presenza dei media di questi giorni Quartogiaro non è il Bronx, qui si vive tranquilli e la frase che ripetono costantemente i residenti scocciati da questa popolarità improvvisa e non richiesta, insomma una periferia come tante altre, come confermato anche dai dati forniti dalla Sunia su 8.318 abitanti. Quasi la metà è composta da anziani sopra i 65 anni, mentre il resto sono quasi esclusivamente persone sotto i 40 anni. Quartogiaro è un quartiere, non diciamo tranquillo al massimo, però è abbastanza vivibile perché la gente si muove, lo fa, non ha paura a uscire la sera. La vita di Quartogiaro è quella di tutte le periferie, inoltre che stiamo lì a girarci intorno. Quello che è successo è un problema fra quelli che vivono in una certa maniera, il resto della popolazione, il resto del quartiere, parliamo del quartiere, e non solo tutti i delinguenti come sono stati descritti. Chiediamo sempre al comune di intervenire in questo momento delicato dell'Aler che debba mettere a posto tutto quanto, perché altrimenti il degrado chiama degrado. Io ci vivo bene a Quartogiaro dal 60, per cui... Scontro tra un treno e un'ambulanza ad un passaggio a livello della linea Bergamo-Lecco tra Pontida e Cisano-Bergamasco. Per cause ancora in via d'accertamento, infatti c'è un'inchiesta interna aperta delle ferrovie, pare che le sbarre fossero abbassate e che poi si siano alzate per ragioni appunto tutte da verificare poco prima che sopraggiungesse il treno. Lo schianto è stato inevitabile, per il momento il bilancio è di due morti, Umberto Pavesi, 79 anni, e il figlio Claudio, di 49, entrambi di Filago. I due erano diretti ad una vicina casa di riposo. Sono rimasti coinvolti anche sei feriti, uno è in condizioni gravissime, era l'autista dell'ambulanza. Sul posto sono intervenute altre ambulanze del 118, un elicottero, i carabinieri e i vigili del fuoco. Avete visto le immagini drammatiche di questo incidente. Nuovi dettagli nel processo a carico di Massimo Guarischi, ex consigliere regionale vicino a Roberto Formigoni, grazie alla testimonianza di un investigatore della DIA. Si parla di viaggi e noleggio di jet e di elicotteri privati da parte dell'ex governatore e di almeno 11 viaggi con lo stesso Guarischi. Stefano Fumagalli. Su e giù da aerei e elicotteri la vita del politico è anche questa, tranne che alle volte per qualcuno viaggi e vacanze passano la misura e finiscono sotto processo. E così dalla testimonianza di un investigatore della Direzione Investigativa Antimafia che ha condotto le indagini nel processo a carico di Massimo Guarischi e di un altro imputato si scoprono dei dettagli singolari. Per esempio che tra il 2009 e il 2013 l'ex governatore Lombardo Roberto Formigoni e attuale senatore del PDL sarebbe andato per 11 volte in vacanza assieme all'ex consigliere Guarischi in carcere dallo scorso marzo perché ritenuto il collettore di un giro di presunte tangenti che sarebbero state versate da alcuni imprenditori nel settore sanitario. Le dichiarazioni dell'investigatore sono state fornite sulla base di alcune informative depositate agli atti del dibattimento e corredate dai dettagli sui pagamenti alle agenzie di viaggi e ad alcune compagnie per voli privati ed elicotteri. Massima attenzione su sette viaggi per i quali l'ex consigliere avrebbe pagato anche tramite una sua società voli non certo low cost. Si comincia coi 14.000 euro per un aereo privato Milano Spalato nel giugno 2009 poi si passa ai 6.000 euro per il noleggio di un elicottero per St. Moritz nel dicembre 2011. Un elicottero verso la Valtellina è costato 8.000 euro nel marzo 2011 e un jet privato da 7.500 euro per la Sardegna è stato usato nell'ottobre del 2009. E così via in Sardegna più volte. Perfino in Sudafrica nel Capodanno 2012. Un viaggio dal costo di 55.500 euro a cui avrebbero partecipato l'ex governatore Guarischi e altre persone per il quale però risulta anche un assegno firmato da Formigoni per 7.340 euro. Una vacanza in Oman nel marzo 2013 è costata oltre 22.000 euro per la quale è stato individuato un bonifico ordinato da Formigoni di 5.740 euro. La bozza del bilancio di previsione del 2014 sarà pronta non oltre febbraio e l'impegno preso nell'Aula Consigliare di Palazzo Marino dall'assessore al bilancio del Comune di Milano Francesca Balzani anche perché ha spiegato discutere di bilancio di previsione a novembre è una grande anomalia. Eppure è quanto sta accadendo quest'anno. Il Governo ha dato la possibilità di approvazione entro il 30 novembre visti gli interventi sulla fiscalità locale e sull'Imu perché il bilancio deve essere attendibile, ha proseguito l'assessore Balzani e non è cosa semplice in un paese in cui le norme cambiano di continuo. Intanto i consiglieri hanno iniziato oggi a discutere gli emendamenti al documento economico di Palazzo Marino. 292 proposte di modifica presentate per lo più dalle opposizioni in particolare dalla Lega che da sola ne ha preparate circa 230 mentre quelli a firma di esponenti della maggioranza di centro-sinistra sono 23. è il Quirinale con una mostra presentata oggi ed aperta al pubblico fino al 15 gennaio la prima tappa dell'anteprima su Padiglione Italia dal progetto ad Expo 2015 mostra incentrata sul plastico in scala 1 a 50 del progetto da 40 milioni di euro del Padiglione, la casa del paese ospitante alla prossima esposizione universale. Padiglione Italia sarà una grande vetrina nel contesto dell'Expo 2015 un'occasione straordinaria, ha commentato il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi che avverte che dobbiamo essere capaci di trasformarle in un'occasione di crescita complessiva per il paese intero. Intanto a Milano, lo vedete nelle immagini, c'è stata la consegna delle prime Fiat 500 marchiate Expo e a margine dell'intervento o meglio dell'evento. Pisapia risponde anche all'allarme lanciato dal presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni secondo cui la città metropolitana metterebbe a rischio le opere legate a Expo 2015. Non credo, ha detto Pisapia, anzi potrebbe essere una ricchezza per Expo prima di aggiungere, non è che siamo d'accordo su tutto con Maroni ma c'è una stima reciproca. Dal reparto di pediatria del Fatebene Fratelli di Milano emerge una realtà inquietante. Almeno otto ragazzine sono coinvolte in un giro di baby prostituzione, adolescenti che si vendevano nei bagni della scuola, pensate ai compagni, in cambio di oggetti o di regali. Le chiamano ragazze doccia, cioè quelle che basta andare in bagno a scuola e trovarle lì, quotidianamente pronte a far sesso in cambio di qualche regalino. Sono minorenni adolescenti di famiglie benestanti che grazie all'equip del professor Luca Bernardo, direttore del reparto di pediatria dell'ospedale Fatebene Fratelli di Milano, intervistato dall'edizione online del Corriere della Sera, sono state identificate. Quelle magari più carine, anche brave a scuola, di famiglie bene, in sette casi su otto. Un fenomeno che non termina nei bagni degli istituti, ma che prosegue anche nei locali, nelle discoteche e nei luoghi di ritrovo e che per voce dello stesso professore si ritiene sia più ampio e non solo milanese. Esisteva perfino un cosiddetto menù come il ristorante, dove i baby clienti sceglievano cosa fare e come pagare le prestazioni, con anche qualche accenno di controllo della prostituzione da parte di qualche alunno più grande che tentava di gestire le cose. Sono state individuate prevalentemente in scuole private, ma non è escluso che altri elementi emergano dalle ricerche. La contrattazione tra le ragazze e i coetanei avveniva via cellulare. Nelle prime ore di scuola, poi si passava agli appuntamenti in bagno quando le ragazzine potevano decidere di accettare anche più di un cliente a testa, scegliendo in base alle offerte in oggetti che i ragazzi potevano dare. Il timore più grande è che in queste logiche pericolose possano essere stati facilmente, a tratti anche degli adulti, in cerca di prestazioni con minorenni e che la prostituzione possa aver varcato le porte della scuola per approdare in giri ancora più pericolosi. Ancora cronaca, è stato vittima di una frode informatica. Nella successiva causa il giudice di pace di Milano gli ha dato ragione, ha condannato poste italiane al risarcimento. Per il Codacon si tratta di una sentenza estremamente significativa. Alberto Carreras. Una persona truffata è riuscita a ottenere il risarcimento da poste italiane. Con una pagina del tutto simile a quella di poste italiane, gli avevano carpito il numero della carta di credito e la password, prelevando dal suo conto in tre tranche 1.322 euro. Un milanese, Ivan Delia, ha fatto ricorso al giudice di pace di Milano e questo, Giovanni Pulci, ha condannato poste italiane al risarcimento di 1.322 euro, oltre agli interessi legali, dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese e competenze, liquidate per 957 euro. Lo ha reso noto il Codacons. Ivan Delia, a causa di una frode informatica, il cosiddetto phishing, aveva scoperto nel 2009 che dal proprio conto corrente e postale erano stati fatti prelievi per ben tre volte. aveva fatto denuncia alle forze dell'ordine e tentato inutilmente di conciliare con poste italiane. Per poste italiane le frodi informatiche non sono considerate risarcibili, dato che i loro servizi online sono realizzati con sistemi di protezione che rispettano elevati standard di sicurezza e deve perciò essere cura di chi utilizza strumenti informatici, adottare tutte le cautele necessarie per garantire la riservatezza dei propri dati. Per il giudice, invece, la tesi di poste italiane appare infondata, in quanto trattasi di mere affermazioni prive di riscontro. Inoltre risulta non contestato che i prelievi sono stati effettuati dal truffatore. Non risultando essere stata approvata, spiega il giudice, la mancata diligenza nella custodia delle schede segrete personali e i rischi relativi alla violazione del sistema di sicurezza adottato per l'home banking. Devono rimanere dunque a carico della parte che ha scelto il sistema e che nella circostanza è poste italiane, non essendo stata approvata neppure la negligenza dell'utente. Per il presidente del Codacons, Marco Donzelli, la sentenza è importante perché un giudice ha deciso che l'onere della prova è a carico del proprietario del sito e i rischi per la violazione di un sito, insomma, sono a carico di chi lo ha fatto e ha scelto il sistema di sicurezza. Un tunisino di 43 anni ha minacciato di darsi fuoco all'interno del consolato in Viale Marche 37 a Milano. È accaduto attorno alle 16.30 di oggi quando un dipendente della struttura ha chiamato la polizia per segnalare l'intrusione di una persona che aveva scavalcato il cancello d'ingresso. All'arrivo degli agenti si è scoperto che il tunisino non aveva con sé materiale infiammabile. I poliziotti che l'hanno portato in questura per accertamenti ha spiegato che il gesto aveva lo scopo di attirare l'attenzione sulla sua situazione difficile avendo il permesso di soggiorno scaduto e molte richieste di sussidio. Andate a vuoto. È morto questa mattina alle 8.55 Luca Braidic, il Rom di 49 anni, colpito ieri mattina da una sprangata alla testa nel corso di una rissa scoppiata tra due famiglie nomadi rivali nel parcheggio dell'ospedale San Raffaele. L'uomo era stato ricoverato in prognosi riservata subito dopo il pestaggio e poi era stato dichiarato clinicamente morto già ieri pomeriggio. Da qui al 2015 il Comune di Milano investirà 70 milioni di euro per risistemare strade e marciapiedi della città dal centro alle periferie. Lo ha affermato l'assessore dei lavori pubblici del Comune, Carmela Rozza, alla conferenza stampa della quale vedete le immagini, per un bilancio del piano strade 2013. Da aprile a ottobre Palazzo Marino ha eseguito lavori di asfaltatura su 1.207.000 metri quadrati in 323 strade, a cui se ne aggiungeranno altri 966.000 di metri quadri, 259 strade in primavera. Con il nuovo anno poi aumenterà la presenza della pietra nelle strade del centro cittadino. L'indirizzo che seguirà la Giunta, ha proseguito la Rozza, sarà quello di posizionare i masselli originali e non i cubetti di porfido che sono stati usati dopo gli anni 50 per valorizzare la città storica, quindi anche in periferia, ad esempio nel quartiere di Baggio. All'interno dei bastioni la pietra tornerà in alcune strade intorno alla galleria Corso Vittorio Emanuele II, grazie all'intervento di privati che sponsorizzeranno i lavori, ma anche in piazza Missori. 49 morti sul lavoro in Lombardia dall'inizio del 2013 ad oggi. Secondo i dati dell'INAIL, dal 2009 al 2013, gli infortuni complessivamente nella nostra regione sono diminuiti del 13%, ma l'allarme è sempre molto alto. Scusate, è partito il servizio, lo facciamo ripartire. Grazie alla regia, il servizio è di Alberto Carreras. Le statistiche parlano di una diminuzione di morti e feriti sul lavoro in Italia e in Lombardia, ma i dati devono essere depurati dall'odierna realtà lavorativa. Perdita di posti di lavoro, cassa integrazione e precariato hanno fatto calare il numero di ore di lavoro realmente effettuate e questo comporta ripercussioni sulle fredde statistiche. Tuttavia il problema è più che mai presente. Nella nostra regione nel 2011 ci sono stati 61 morti sul lavoro, cifra salita a 70 nel 2012. E adesso, nei primi dieci mesi del 2013, siamo a quota 49, considerando anche l'operaio morto lunedì scorso 4 novembre in una cava a Sant'Eufemia nel Bresciano. Quest'anno ben 12 morti sono avvenuti in provincia di Brescia e 5 in quella di Milano. Per la regione Lombardia, dal 2009 ad oggi, gli infortuni sono diminuiti complessivamente del 13%. Edilizi e agricoltura sono i settori più colpiti. Molto spesso tra le cause dei decessi c'è l'eccesso di sicurezza da parte del personale oppure la sottovalutazione del pericolo. Di questi 48-49 morti in questo periodo fino alla fine di ottobre, ecco, dobbiamo contemplare delle novità quasi in assoluto. C'è che circa 12 o 13 di questi 48-49 morti sono praticamente da ricercare tra i titolari, per esempio, non più soltanto tra i lavoratori. Quindi c'è un cambiamento anche molto importante sulle persone che vengono coinvolte in questi eventi. In un periodo di crisi, dove le aziende fanno fatica ad andare avanti, è difficile anche conservare livelli di sicurezza molto elevati? Tante volte quando si intende un'azienda dove c'è una crisi in atto, quando parliamo di sicurezza ci vengono a dire grazie a Dio che abbiamo ancora il lavoro, quindi non dico non rompeteci le scasole, ma quasi. Ci dicono adesso dobbiamo pensare a lavorare, poi quando le cose andranno meglio penseremo alla sicurezza. Questo è il grossissimo errore perché si abbassa la guardia. Apre domani in una villa confiscata, un pluricondannato per traffico di stupefacenti, usura, emissione di denaro falso e furto di autotreni, il Festival dei beni confiscati alle mafie di Milano. È la seconda edizione dell'iniziativa organizzata dal Comune con la collaborazione di Libera e il sostegno di Fondazione Cariplo. Sarà dedicata quest'anno a Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009, i cui funerali si sono svolti in città il mese scorso. Il programma fino a domenica ci sono più di 50 eventi, presentazioni di libri, dibattiti, spettacoli teatrali, musicali, attività per bambini, iniziative di solidarietà, apertura al pubblico e alle scuole di appartamenti, negozi e spazi, un tempo utilizzati dai boss o da affiliati alla criminalità organizzata per i propri affari e oggi assegnati a denti e associazioni per finalità sociali. Prima giornata di accesso al pubblico per la 71esima edizione del Lake, ma la fiera delle moto più grande e importante al mondo, in corso a Fiera Milano, a Fiera Ropero, scusate, ed è subito record di accessi. Già dalle prime ore una grande massa di appassionati, tanti dei quali stranieri provenienti soprattutto dall'Europa, ma anche dall'America, dal Giappone, da Taiwan e dalla Cina, hanno preso d'assalto i sei grandi padiglioni di una superficie di 280 mila metri quadri, dove espongono ben 1.408 espositori di 38 paesi diversi. Intanto però 12 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per la detenzione di prodotti contraffatti dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, che oggi ha sequestrato 13 esemplari di scooter cinesi contraffatti in 10 stand proprio presso il salone della moto, che durerà, se lo ricordiamo, fino a domenica prossima. La Portaeri Cavour salperà il 13 novembre per trasformarsi in una sorta di fiera dell'arredamento del legno, ovviamente sul mare. Un'iniziativa particolare, affascinante, soprattutto per lo scenario inconsueto. Sentiamo i dettagli nel servizio. Una fiera galleggiante con le eccellenze del Made in Italy del settore del legno arredo. La Portaeri Cavour ospiterà al meglio delle aziende dell'arredamento italiano, in un viaggio che inizierà da Civitavecchia per un tour promozionale di 5 mesi, nel corso del quale toccherà le località commercialmente più strategiche del Golfo Persico e dell'Africa, rientrando in Italia ad aprile del 2014. Questo progetto è nato il mese di agosto scorso, quando il Ministro della Difesa mi ha accennato a questo progetto che stava nascendo nell'ambito della Marina Militare con la Portaeri Cavour. Poi ho incontrato il Capo di Stato Maggiore della Marina, abbiamo parlato, mi è piaciuto subito come progetto per in quanto andiamo a toccare quei mercati nel Medio Oriente che siamo già presenti e quindi che vogliamo crescere ancora, ma il continente dell'Africa che per noi sarà un mercato nuovo. Il progetto a cui Federlegno partecipa con una propria installazione di 150 metri quadrati con 25 aziende associate sarà una vetrina dell'eccellenza italiana nel mondo. L'installazione dal titolo Il cuore dell'abitare italiano, la nostra passione e la tua casa ospiterà arredi prestigiose, finiture made in Italy, per raccontare un percorso ideale e mostrare manualità, ricerca e innovazione del nostro paese. È una buona rappresentanza, sono più di 30 aziende con 90 prodotti e che andrà a promuovere il nostro saper fare in giro per il Mediterraneo. La Cavour, gioiello della Marina Italiana che salperà da Civitavecchia il prossimo 13 novembre porterà anche aiuti umanitari a circa 15 paesi. Si chiude qui questa edizione, vediamo cosa ci aspetta sulle nostre reti questa sera, grande serata di sport, 19.40 dopo la pubblicità ci sarà il nuovo Stadio Sprint, Michele Marchetti sui ospiti per parlare di calcio, mentre i motori alle 20.30 protagonisti con Franco Bobbiese per la sua griglia di partenza, l'informazione torna a mezzanotte. Dopo la pubblicità e il meteo, per quanto riguarda questa edizione è davvero tutto, buona serata a tutti. pubblicità e l'armusia. Grazie a tutti.